o vabbè vabbè oddio sto volando oddio ma io ti vedo normale mi sto fluttuando bellissima c'è Reddy scusa per ieri per cosa ora orso vabbè oddio non posso morire ma ho lasciato il tasto e non posso ah ecco ora si ma d'ho buggatissimo e scusa non c'è una propria ma sicurati dai non ti preoccupare no do fa la clip no do faccio